C'è molta amarezza, dispiace, perché questo è un servizio molto utile alla cittadinanza, è un servizio che questa amministrazione vuole portare avanti, dovremmo trovare delle altre modalità. Casette dell'acqua chiuse definitivamente per i troppi furti, l'amministrazione comunale di Mogliano sta pensando a nuove modalità per poter far ripartire il servizio. L'ipotesi è quella di abilitare solo la tessera, eliminando il denaro contante, che seppur si tratti di cifre basse, purtroppo attira i malintenzionati. Volevamo mantenere entrambi i servizi, sia con la tessera che con le monetine, per dare la possibilità non solo alle famiglie moglianesi, ma anche a chi viene da fuori, ai turisti che vengono da fuori, ai cicloturisti che hanno la possibilità di fermarsi, riempire la bottiglia, la borraccia e poi andarsene. Purtroppo saremo costretti a decidere solamente per la scelta della tessera ricaricabile.